buonasera ben trovati lo speciale di videostar ed è un piacere avere qui con me pietro ghislandi attore rinomato e amico è un piacere ritrovarti qua pietro il piacere è mio grazie sempre un piacere si è intervistati da una bella giornalista senti pietro oltre a essere famoso come attore che ha spazzato dal comico al drammatico e noto ventriluco ti vediamo adesso una nuova veste quella di crooner cos'è il crooner innanzitutto è un po un sogno il famoso sogno del cassetto che si è realizzato per scherzo in una serata in un ristorante chiamiamolo ristorante artistico dell'amico simone dove vediamo anche la locandina che è proprio un po il direttore artistico il guru di questo di questo locale che si chiama loft che diciamo che è un po il capolinea milanese equivalente insomma nella bergamasca in una serata normale di una cena con il mio direttore di banca a cui ho chiesto un fido mi ha dato un coca tra l'altro con la crisi che c'è l'esibizione di una big band sul palcoscenico mi ha fatto scattare la scintilla allora ho detto rispolveriamo la mia vita sì certo perché poi musicale esatto amo fare il cantante so imitare con discreti risultati la voce del grande chet becker cantante trombettista di fama internazionale allora ho detto voglio fare il tentativo la big band è una big band importante una big band di buon livello perché la big band del centro didattico produzione musica diretto da claudio angeleri che è anche il pianista di fama internazionale che è anche il direttore di questa scuola che prepara insomma gli allievi come futuri poi musicisti del panorama nazionale chissà anche europeo la big band che si esibirà sabato esatto diretta da sergio orlandi per il quale io ho un debole particolare professionalmente perché suona come chet becker e quindi ci saranno degli assoli proprio durante il brano su cui punto tantissimo che mai fanni valentine che è insomma il cavallo di battaglia del grande chet becker che nato come trombettista americano bianco si mise a cantare con questa voce strana particolare soffiata un ventriloco la può sicuramente rifare lo so quasi imitare quindi divento chet becker con gli assoli di tromba di sergio orlandi non solo chet becker ma ci saranno anche altri classici del jazz come frank sinatra esatto brani molto voglio dire sto cavalcando un po l'onda perché va fortissimo il meccanismo michael buble lo sappiamo piace tantissimo perché ripropone i classici in chiave abbastanza moderna però con un organico di musicisti preparatissimi la big band insomma non è una cosa che trovi tutti i giorni dietro un angolo la mia fortuna è ho trovato la big band che si mette a disposizione con un bravo maestro trombettista un direttore artistico come claudio angelieri dico devo fare il tentativo se questo tentativo funzionerà potrà diventare effettivamente una un nuovo tassello del mosaico del mio lavoro e soprattutto un lavoro a tutto campo si è la sua bravura in totale brava esattamente l'atmosfera vero pietro ma anche perché voglio dimostrare che se sono un cabarettista e diciamo metto l'ironia nel mio nel mio modo di lavorare però voglio far capire che sul palco c'è un cantante professionista con un'orchestra professionista diretta da professionisti e come ti ripeto è un po una prova un esame universitario magari una tesi di laurea e sicuramente quello che effettivamente mi ha dato molta soddisfazione è che anche il direttore della band mi ha detto guarda sarà come un master tu vieni da noi proponi le tue idee noi proponiamo le nostre è una collaborazione artistica che sicuramente è una crescita e per me soprattutto è un proporre un qualcosa di nuovo però non è non sono nuove le tue abilità musicali perché non tutti lo sanno però tu hai studiato al conservatore pianoforte per cinque age perché le mie origini artistiche sono comunque nate lì volevi fare musicista io volevo fare musicista perché già lo zio mio che è il fratello della mia mammina tuttora vivente la novantenne amalia il fratello era lui giravaggio insegnante di fisarmonica che ha insegnato a mezza bergamo a mezza provincia la fisarmonica io mi sono esibito nella nella fisorchestra primavera quindi suonavo la mia fisarmonichina piccolina perché ero piccolino però nell'intervallo tra la prima parte la seconda parte del concerto facevo l'imitatore imitavo il gatto che mi augolava il cane che abbaiava la lotta tra cane gatto la mia prima gavetta è stata quella sia musicalmente che poi per il cabaret due specialità diciamo già fuse allora e lavoravi anche perché facevi insegnate di musica e poi nel frattempo io dico cos'è la mia passione la musica facendo il conservatorio avevo trovato il posto come si diceva allora supplente annuale e ho insegnato in due paesi a stezzano e a curno e lì la mia cattedra era però il palcoscenico da cui io facevo i miei esperimenti comici dicendo ai ragazzi se non studiate la lezione che io ho fatto oggi io non vi faccio parlare il quaderno quando invece studiavano e mi seguivano io facevo con il quaderno andrà siete stati bravissimi quindi facevo lo showman in funzione del programma ministeriale perché comunque facevo il mio lavoro da insegnante senti poi non dimentichiamo che comunque hai pubblicato anche un album pota dance sì sì è una cosa che effettivamente molto simpatico in tempi non sospetti usavi la nostra la lingua bergamasca infatti sono andato da un produttore dicendogli ma sulla classica disco dance del invece che metterci come baby i love you ci metto a luna poto a luna e quindi prima che cavalcassero questa quest'onda del bergamasco che è diventato un po la bandiera di tanti cantastorie bergamaschi sono arrivato a fare una cosa commerciale insomma portando il bergamasco in giro per l'italia sempre tenuto conto del fatto che in ogni caso la musica la so fare e oltretutto sono anche l'armonica blues quindi nella big band diretta da Sergio Orlandi si farò l'armonicista blues perché l'armonica l'armonica bocca uno strumento dalla grande intensa espressività è il suono che viene dall'anima veramente e poi non dimentichiamoci anche tangenti dance si nel 93 si moderno nel 90 infatti io nel 93 mi sono inventato questa tangent dance era come una favola io vestito da carcerato parlavo a questa palla al piede che apriva la bocca ed esprimeva la rabbia del cittadino derubato dalle tangenti dei politici quindi era il politico in galera che dialogava con la palla pensate che nel 93 io ho vinto il festival nazionale della canzone satirica il festival della satira in note di ascoli piceno su quasi 50 concorrenti sono arrivato prima assoluta tra cui i famosissimi fichi lindia tenuto conto andando poi in rai a proporre il brano mi sono sentito dire con una risposta diplomatica molto bello però sentiamoci più avanti mi faccia una telefonata fra un anno due anni dava molto fastidio perché mettevo il dito nella piaga tenuto conto che le tangenti c'erano anche nelle correnti politiche rai e tutto il resto hai capito guarda e comunque è un brano attualissimo si infatti nonostante questa questa scursus musicale non smetti i panni di attore che è il tuo primo mestiere per forza e potresti potrebbe arrivare un lavoro molto importante un mese puoi anticiparci puoi svelarci e lei lo sa fa fin di non saperlo diciamo che le mie ambizioni da attore drammatico non hanno molte occasioni perché in effetti se se ti reputi come mi reputo io artigiano dell'arte dell'attore e quindi devi lavorare personalmente con i contatti presi volta per volta e non sei un po nel meccanismo romano dell'industria cinematografica devi basarti un po sui contatti che sono quelli puliti limpidi con uno due tre forse quattro registi che credono in te per fortuna uno di questi è leonardo piraccioni con il quale ho collaborato per tre film quindi ero con dei ruoli piccoli o grandi celli in tre film importanti suoi il principe il pirata il paradiso l'improvviso ti amo in tutte le lingue del mondo sono mancato negli ultimi due ma perché perché piraccioni sentito telefonicamente qualche mese fa mi ha detto senti ma se ti non mi si telefona come ci si fa a ricordare allora mi ha detto chiamami io lo dovrò chiamare fra una circa un mese appuntamento telefonico per avere quasi di sicuro un ruolo nel suo prossimo film che girerà quest'estate e verrà programmato logicamente per il natale del 2013 poi lavorare con lui è fantastico perché è una persona umanamente meravigliosa e poi è un professionista del settore questo è sicuramente un successo su un nuovo film senti Pietro se un giovane volesse seguire le tue orme cosa consigliereste un mestiere che consigli quello di fare l'attore anche in tempi difficili di crisi come quelli che stiamo vivendo sai che se dovesse avere un figlio che mi dice papà papi voglio fare l'attore gli direi senti fai una bella cosa perché non fai il contadino che è sereno tranquillo senza cercare raccomandazioni senza dover andare a fare il politico è difficile io penso che oggi sia molto difficile non consiglierai forse questa professione perché dovresti sicuramente avere un atteggiamento un po da ruffiano da yes man quando invece cominciando io 30 anni fa anche nel piccolo dove poi sono arrivato c'era comunque la possibilità di sperimentare delle determinate cose c'erano meno cabarettisti c'erano meno battute e poi gli attori erano meno ladri perché sappiate che i comici sono i ladri patentati di battute quando tu senti dire una battuta bellissima e fantastica l'era di qualcun altro certo vai a vedere un bel filmato di Walter Chiari come quello della bellissima puntata che abbiamo fatto qui da te un anno fa filmati in bianco e nero con una battuta favolosa leggermente modificata te la fai tua come nella musica stessa cosa tu hai un ritornello fantastico molto recchiabile che ha avuto grande successo cambia una nota diventa tuo insomma si è ladri così purtroppo senti Pietro ultimissima domanda perché abbiamo purtroppo quasi esaurito il tempo hai già finito un sogno del cassetto a me qua proprio nei nostri studi di videostar avevi dichiarato mi piacerebbe essere il protagonista di un film americano una parte drammatica ancora questo tuo sogno io di sì ma senza pretendere di essere il protagonista con un ruolo importantissimo quindi non è che faccio l'attore un po' come posso dire troppo troppo superficiale che vuole la notorietà facile oppure io voglio diventare il più grande attore del mondo il mio idolo è Jack Nicholson mi piacerebbe da morire essere un piccolo Jack Nicholson in un film internazionale dove la mia faccia la mia espressività possa far capire a tanti registi in Italia che il mio spazio lo potevo comunque avere e poi dico sempre in Italia se sei un caratterista come sono io sei purtroppo l'attore piccolo delle parti piccole nei film importanti però ti dicono sì hai fatto quasi una comparsata pensate che in America un attore come me nel contesto americano sarebbe un grande caratterista perché in America ci sono attori che con due, tre, quattro battute in un film che vince l'Oscar loro stessi vincono l'Oscar come attori non protagonisti per aver partecipato con la faccia con l'espressività per pochi minuti come caratteristi, come dici tu i veri caratteristi valorizzati moltissimo in America poco valorizzati in Italia purtroppo resti sempre in tempo per essere un attore in fuga come mi sono già notati Cerveri se tu senti Steven Spielberg digli che io posso andare a fare un provino così mi vede dal vivo ok? grazie Pietro ricordiamo l'appuntamento allora per vederti dal vivo sabato sera sabato alle 21.30 12 gennaio ore 21.30 all'Oft di Via dei Amici il Loft di Via dei Amici del mio amico Simone Vigani mi raccomando la Big Band il Centro Didattico Produzione e Musica diretta da Sergio Orlandi direttore artistico e pianista Claudio Angeleri e il Michael Bublé per ora bergamasco poi speriamo nazionale Pietro Ghislandi Ventriloco che vi saluta da Ventriloco e manda un bacio alla bellissima giornalista televisiva Rosanna non esagerare sei fantastica così vai bene ciao a tutti ciao 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 a tutti ciao 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 ciao